giudice che ci ha permuto di interlocarmi a tua completa disposizione sono vuole che canti adesso ci mettiamo a cantare ci mettiamo a collaborare come si dice una mano lava l'altra e tutte e due si lava la faccia parte chiara amicizia lunga però giudice tanto per cominciare sti manetti sti bracciano perché c'è premura che scappo guarda che non scappo ormai io lavoro per lo stato sono diventato un impiegato statale la vacca buongiorno allora marina sei pronto pronto e allora signor giudice le dico subito che ammazzare zerbinotto e collare sono stato io per ordine di scalea ci ho sparato se col pruno in testa uno due sei mezza gli occhi come si fa con i cavalli no ma quante volte non devo dire le cose signor giudice ma che fa non ci capiamo che parliamo due lingue diverse era carmelo murgio che faceva la garante murgio e torresi murgio a palermo torresi a lecce apparteneva alla saga corona unita e tutte e due prendevano ordine da scalea sì sì scalea è un corleonese ha cominciato come campiere di navanda ma poi ha fatto affare pure con i pugliesi e la saga corona unita quello non parla signor giudice non parla non c'è niente e a me e a me mi fanno il cappotto mi fanno il servizio povera moglie mia me l'hanno ammazzata come un cane figli bottana con il note la rose con il note ma io mi devo vendicare giudice collabora giudice e a chi do come pensate di poterlo io non valgo niente scalea sono le mie parole ci piscia di sopra c'è solo un uomo che può incastrare scalea ma io adesso non dico più niente se prima non c'ho delle garanzie scritte precise per quel poco di famiglia che mi è rimasta io voglio protezione signor giudice se lei mi fotte io ho detto tutto si chiama tu di arcangelo leofonte un ragioniere vabbè il nome non le dice niente lo sai perché perché è furbo usa il cervello sempre zitto mai che chiedo un favore d'inverno si ritiene nella sua villa in collina vicino palermo tutti leofonte l'inverno va in letargo come i scavagli come gli scarafaggi scompare un ragioniere di fatta sua non se ne sa perché ho niente dieci anni fa era lui che teneva l'amministrazione dei terrenove in puglia poi grazie alle sue donne è passato a palermo ha fatto il salto di qualità e così ha cominciato a tenere la contabilità di scalea che era introdotto nelle famiglie lo chiamano un computer e lo sa perché giudice perché sa memoria tutti i numeri di codici di conte corrente di scalea e degli altri si è sposato tardi con franca gravena nipote dei cangemi la più bella donna di tutta la sicilia e questa qua gli ha dato due creature il piccolo nicola di solo 4 anni e chiara la primogenita che ce n'ha 17 quello ragioniere vive solo per la famiglia non ci fa mancare niente lui sta bene tiene i piccoli avevano e loro e invece a quelle come me vengono gettate gli ossi come si dice giudice nella vita c'è chi nasce conte e c'è chi nasce cane solo che i cani sono loro noi e io tu te lo fonte conosce tutti i conti segreti di scalea i fondi neri e anche quelle rosse sporche di sangue sai il nome di tutta quella bella gente di Milano che la sera si mette lo smoking per andare in teatro alla scala e s'annacano mentre l'indomani mattina si mettono in fila sul biopago della cuola tiene tutto qua in testa signor giudice in questa testa se voglio la scuotete questa testa e salvateno si rompe cominciano a scherzare fuori nome nome tanti nomi centinaia di nomi che lo stefano si riempie di merda solo che questa volta nella merda ci finisce pure lui con tutta l'amice sua è contento signor giudice hanno ucciso 13 pentiti e marina a